Dare la parola ai cittadini oggi significa immaginare che le opere pubbliche su cui in effetti si svolge il dibattito pubblico, come dico sempre, siano opere della società e non opere fatte anche per la società. E questo vuol dire che la partecipazione deve essere consapevole, deve essere piena e deve poter dare voce a tutti quelli che possono dire la propria su un'opera, su un territorio che cambia, che si evolve, anche perché è sui territori e nelle città che, come dico anche sempre, si svolge il destino dei popoli. Sono sempre di più crocevia degli interessi sociali e economici, ma della vita stessa di tutti noi. Siamo molto soddisfatti perché a un anno dal primo dibattito pubblico, il 15 ottobre dello scorso anno, ce ne sono stati ben 14, alcuni sono in essere, altri si sono conclusi con soddisfazione da parte di tutti e altri stanno arrivando. Abbiamo scelto per questa giornata il dibattito pubblico di Milano, proprio perché è una grande metropoli, riguarda una grande metropoli, ma riguarda anche un simbolo, per cui nel momento in cui mi è arrivato l'invito a partecipare a questo convegno che è Polis, fra mito e realtà, non potevano scegliere lo stadio di Milano, che è davvero un mito nell'immaginario non solo di quella città, ma dell'intero paese, che deve fare i conti però, appunto, col cambiamento che è sempre più veloce della società e quindi deve rimanere tale per poter cambiare.